Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e oggi farò vedere come mettere il nostro tasto home se è difettato, il nostro tasto centrale se è difettato lo mettiamo sul nostro schermo android esattamente come potete vedere qui dalla foto in basso a destra come quello la sull'iphone, per fare questa operazione andiamo sul nostro play store e andiamo a cercare easy touch, ecco qui, la prima applicazione che trovate andiamo a scaricarla, ci vediamo dopo che l'applicazione si è scaricata, ecco qua ragazzi, una volta che l'abbiamo scaricata come potete nemmeno senza aprire l'applicazione uscirà il tasto home, come potete vedere possiamo chiamare, possiamo bloccare il schermo e poi se vogliamo modificare qualche impostazione non ci resta che andare su easy touch sull'applicazione interessata, andiamo su setting impostazioni e modifichiamo le impostazioni che vogliamo. Ragazzi per questo è tutto, ci vediamo al prossimo video, bello ragazzi.